Un uomo di 56 anni, Antonio Genovese, è morto a Reggio Calabria a causa di una frana che lo ha travolto mentre alla guida della propria automobile stava percorrendo la strada provinciale che collega la frazione Terreti con Gambari ed Aspromonte. La vettura condotta da Genovese, una Fiat Panda, è stata trascinata dallo smottamento provocato presumibilmente dalle forti piogge abbattutesi nella zona la scorsa notte finendo in una scarpata. La morte dell'operaio è stata istantanea, sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco i militari hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.